Noi puntiamo sempre un po' sul matrimonio romantico, non siamo molto tipi da innovazioni, quindi andiamo sempre un po' sul classico. Poi cerchiamo sempre di aggiornarci con nuove proposte, anche nuovi colori. Perché scegliere voi? Perché abbiamo la cura del cliente e lo seguiamo passo per passo durante tutta la preparazione del matrimonio. Emozionati con Emozionando!